bella ragazzi sono gerico e benvenuti in questa nuova parte del let's play di amnesia ah l'ultima volta ci eravamo lasciati con questa onda energetica avevamo preso la pietra ma sono zoppo boh eh abbiamo preso la pietra e niente dobbiamo prendere le altre ho visto sono quattro ma sono zoppo invece no qua è chiuso beh allora andiamo qua a proposito che come sono messo olio c'è no est wing aspetta che è sta chiave no voglio andare a vedere cosa è questa chiave est wing allora se questo è il nord questo è l'est quindi quella là sopra wing non ho idea di cosa sia non lo ricordo quindi questa qua che cazzo ne so io est wing esattamente e andiamo qua oh oh che rumori di merda oh dio che me l'ha fatto fare stanza è larga io le odio cos'è i fantasmi che sono oh ah questo non sembra qualcosa oddio ahci ho paura di te ah ahahah 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 credi che ho paura di te stupido mostro oddio oddio mi trovo qua no non penso utt 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 Oddio. Oddio, è là. Eh, sti cazzi. Via, vai. Cosa fai? Le passeggiate. Cos'è? Il suo parco giochi. Dov'è? Ehi, 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 se ne sta andando. Io mentre sto... non vero, non sto morendo, anzi. Veloce, andai via, vai via. Por se è andato. Ok, è andato. È andato? Non lo so se è andato. Oh Leo, che bello. Ok, qua non c'è più niente. Controlliamo per bene anche qua sopra. Niente, niente di niente. Questa non si ha. Eh, ci toccherà andare qua. Che sia proprio questo. Io li lascio sempre aperti perchè... Quindi, ma... Che... qual'era? L'ho dimenticato. poco un po oltre il popolo ma guarda troppo lungo piscina non è quello che pensavo queste scossi non so che cosa servano non lo voglio sapere sinceramente perché non lo prendo questo schifo qua niente stanza inutile ho paura di aprire anche questo oh che bello si trovano un bel po' di cose madonna che cose lunghe me lo fa prendere regno vegetale canto per non piangere questo sia con l'armadio so chiuso permesso? c'è qualcuno? no ovviamente no oddio oddio e vabbè ma ogni cosa che faccio spunta il mostro dov'è? oddio sta avvenendo no 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 non avere strane idee mostro eh non avere strane idee stupido mostro oh ma sta qua dietro vabbè vabbè forse è andato no è andato un cazzo ancora qua si vuole passeggiatine lui credo che è andato credo che è andato si è andato che se c'è questa maledettissima musichetta mi sa se è bugata ma don't give a fuck ho 300.000 chiavi andiamo hey 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 altre stanze molto interessante vedo se c'è qualcosa qua stupidi pensano di magari un libro qualcosa una sedia ok andiamoci senza porta ah no qua dietro la porta che c'è qua beh credo ci dovrebbe essere qualcosa perché ok un acciarino e quindi oddio che cosa è quella cosa blu lì iniziamo boh torniamo indietro che cazzo ne so non c'è niente qua boh stanze inutili qua c'è una musica più rilassante io sono stato là quindi andiamo qua a questo punto oh chiavi no e allora andiamo là eh purtroppo andiamo là andiamo là a questo punto anche se non ci voleva assolutamente andare perché è bruttissimo ma ecco archivi che è oh ehi la gente c'è nessuno spero di no ehi la ehi la levati stefan ehi la altra roba perfetto perfetto it's stuck no no ok andiamo peccato cazzo sto finendo l'olio meglio non tenerla accesa per così tanto tempo un casino di accedi oh calma che è tutto sto che posto è brutto posto non so se lo sarei ehi c'ho sti acciarini usiamoli no uuuh uuuh ma librerie a pozzi ma boh non ho idea dove sono oddio quanto è brutto camminare in questi corridoi oh oh cazzo cazzo porca merda vai ovunque basta che ci vai e ci nascondiamo da qualche parte dove sto andando ok forse non c'è più forse era solo un scusa per caso sei andato via si andato via era solo un una cosa finta fintissima iper finta per fortuna vabbè non fare così madonna oh quanta roba troppe stanze se mi confondo con queste troppe stanze poi se mi metto a cercare bene che cazzo sei qua dentro oh no dentro è vuoto eh mi se ci tocca andare qua dentro ma non c'è nessuno ma io ho paura ai fani no non me ne frega niente aspetta però ho scritto qualcosa di se not sedia da mx bromi mercurio in the blood ho fatto visto che non per una porta al tuo no del re alm dove cazzo 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 che è ma le detti scherzi perfetto ho finito io lo sapevo lo sapevo basta basta o ci sei o non ci sei o ci sei o non ci sei ti decidi oh che spunta dal nulla questo tipo oh addios sta anche qua dietro un leggero mal di testa eh mi dispiace non ti posso fare niente guarda lei è proprio qua dietro e cammina cammina lui cammina ma si è chiusa la porta e la sta sfondando ma è stupido e le due colpi questo è potente che dici di andare via adesso dai oddio è andato è andato io dove devo andare mi sono confuso qua e vaffanculo ah intanto succederà qualcosa proprio non sono più che sicuro oddio no 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 non ci sia oddio porca buttana aaaaaa oh cazzo aaaaaa 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 cercavi di stavo stuprando a una povera ragazza mi dispiace per te ma io sono al sicuro aaaaaa oddio quella maldetta porta che cazzo uuuu uuuu le altre onde energetiche uuuu che cazzo aspetta non ho trovato una chiave uuu questo è brutto va bene ragazzi ho registrato anche abbastanza per oggi spero che la puntata vi sia piaciuta come sempre lasciate un mi piace commentate e alla prossima parte bella e alla prossima